Tra una settimana esatta andrà in onda la prima puntata di Border, storie di confine, che diventerà un appuntamento fisso per i frontalieri italiani in Svizzera. È la nuova trasmissione di ETV, un approfondimento settimanale sulle vicende economiche, politiche e sociali che attraversano il confine tra Italia e Svizzera. La voce dei frontalieri sarà in onda ogni mercoledì, a partire dal 17 marzo su ETV, in diretta alle 20, una trasmissione curata dalla redazione di ETV e condotta dalla giornalista Anna Campaniello. Sono più di 70 mila i frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a lavorare in Svizzera, una realtà fondamentale per il nostro territorio. Ve la racconteremo con interviste, con ospiti studio, dando voce ai diretti protagonisti per far conoscere ogni sfaccettatura di questa realtà che per l'economia comasca e di gran parte della Lombardia è una delle realtà fondamentali. Ospiti in studio, telefonate, linee WhatsApp per gli interventi in diretta, ma anche servizi in esterna e collegamenti dalla Lombardia e dal canton Ticino. Border toccherà ogni aspetto della vita dei frontalieri di tutto il territorio lombardo, quindi non solo Como, ma anche Varese, Sondrio e Verbano-Cusiossola. Fiscalità, economia, mercato del lavoro, sanità, commercio, cultura, costume e società. Border, storie di confine, dal 17 marzo ogni mercoledì alle 20 su ETV, la voce dei frontalieri.